Ciao! Lo sapevi che il collagene è la proteina più abbondante nel nostro corpo? Proprio così, infatti costituisce il 30% della massa proteica totale e il 70% delle proteine della pelle. Beh, in questi distretti il collagene è indispensabile per dare struttura e sostegno alla nostra pelle, oltre a conferirle il giusto grado di idratazione ed elasticità. Tuttavia, già a partire dai 25 anni di età, il collagene viene prodotto in quantità sempre più basse dal nostro corpo, provocando gli effetti più evidenti proprio a livello cutaneo, per cui la pelle tende a diventare più opaca, meno compatta e si ha la presenza delle così tanto detestate rughe. Nel tentativo di ridurre i segni del tempo, la ricerca Guam ha realizzato il nuovo integratore Guam Britannia Collagen Plus, un integratore in polvere a base di collagene marino idrolizzato, acido ialuronico, astaxantina, alga wakame e vitamine C, B6 ed E. L'elemento chiave di questo integratore è proprio il collagene, ma non un collagene qualunque, bensì un collagene di origine marina, che trovandosi in forma idrolizzata è in grado di essere assorbito facilmente dal nostro organismo, compensando la perdita di collagene che l'invecchiamento porta con sé. Ma i benefici di Guam Britannia Collagen Plus non sono ancora finiti, infatti al suo interno sono presenti sostanze capaci di potenziare l'azione benefica del collagene. Vediamola insieme. Prima fra tutte la vitamina C, che agisce come cofattore nella sintesi del collagene e si comporta come potente antiossidante. Poi l'acido ialuronico, che genera un effetto elasticizzante, idratante ed antietà sulla cute. E ancora la staxantina, un carotenoide estratto da un'alga verde che contrasta in modo efficace il fotoinvecchiamento. Ma i vantaggi non sono ancora finiti, perché Guam Britannia Collagen Plus racchiude al suo interno altri componenti che lo rendono un alleato unico per la nostra pelle. L'alga wakame, che oltre a favorire la corretta funzionalità della cute, promuove il benessere di unghie e capelli. Poi la vitamina E, che rallenta il fotoinvecchiamento. E infine la vitamina B6, che riduce stanchezza ed affaticamento, promuovendo il benessere non solo della cute, ma dell'intero organismo. È semplicissimo, ti basterà versare il contenuto di ciascuna bustina all'interno di 200 millilitri di una bevanda a piacere, oppure a disperderlo all'interno di un vasetto di yogurt. Se hai delle domande, scrivicele nei commenti! Grazie a tutti!